Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV con il primo appuntamento con informazione sulla nostra emittente, naturalmente occhio ai giornali che puntualmente alle 7.30 ogni mattina apre la giornata insieme a voi, però prima di guardare i giornali già pronti sul nostro touchscreen, santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è sabato 12 marzo, San Luigi Orione, sacerdote, il sole è sorto alle 6.24 e tramonterà alle 18.11 e guardiamo le previsioni del tempo per questo fine settimana, oggi sabato il cielo è inizialmente molto nuvoloso, però lungo la fascia costiera ci sarà qualche schiarita nel corso del pomeriggio, come vedete, nubi più intense anche con precipitazioni sia nevose che piovose sui rilievi, sopra i millimetri compare la neve appunto e quindi però riguarda più che altro il crinale appenninico, temperature in lieve aumento. Domenica più o meno si presenta nello stesso modo molto nuvoloso, diffuse nelle zone interne le precipitazioni, soprattutto nel settore meridionale anche nelle ore centrali in presenza abbondante anche, però nel corso della giornata ci sarà qualche schiarita il limite delle nevicate sempre intorno ai millimetri, le temperature in diminuzione. Lunedì, primo giorno della settimana va verso una tendenza di bel tempo, parzialmente nuvoloso per le nubi residue nel corso della mattinata ma nel pomeriggio di lunedì migliora sensibilmente, precipitazioni possibili però, vedete, molto scarse sui rilievi appenninici e le temperature senza variazioni di rilievo, quindi abbastanza stazionare. Questo è il tempo che ci aspetta nel fine settimana. Vediamo invece che cosa ci aspetta in edicola, nei giornali, nelle pagine dei quotidiani iniziamo dal resto del Carlino di Pesaro, la pagina di apertura dell'inserto locale, fotonotizia centrale si parla di mercato immobiliare, del mattone che riparte, poi vedremo perché, BS ed SCM, due aziende che lavorano nello stesso settore il settore delle macchine per il legno, la BS supera la SCM, la sua rivale e punta sul mercato tedesco BS è un bilancio da record, dice siamo la seconda azienda mondiale del settore, in arrivo un'altra fabbrica e quindi anche risvolti occupazionali positivi. E poi di spalla qui si cita l'ergastolo della patente che però spaventa i camionisti, vedremo anche il perché. Andiamo a vedere quindi la notizia principale, la fotonotizia quella che riguarda appunto la ripartenza del mercato immobiliare, ma è una condizione ben precisa perché sono frequentatissime le aste giudiziarie, quelle che naturalmente mettono sul mercato abitazioni esecutate ce ne saranno nei prossimi tre mesi più di mille abitazioni, è ripartito in questo modo il mercato immobiliare le aste in tribunale sempre di più affollate, si vende il 40% delle offerte. È un risvolto sicuramente emblematico per due versi, uno perché ce ne sono tante sul mercato che sono state messe in vendita dal tribunale perché qualcuno sicuramente non è riuscito a pagare il mutuo e questo è sicuramente un aspetto negativo che mostra la crisi anche economica del nostro settore, però poi c'è chi di questa necessità ne fa una virtù e quindi si riparte il mercato. L'esempio emblematico, le torri di Mulazzani che ci credevano in pochi che fossero vendute, sono stati venduti, pensate, in un blocco unico, ben 84 appartamenti, se non ricordo male anzi no, qui lo cita proprio l'articolo, 8 milioni di euro, si era partiti da 10, quindi insomma ecco questo sicuramente è emblematico. Una chiave di volta di questo processo è citata qui nell'articolo che dice appunto l'associazione dei notai, la novità è quella apportata dalla legge che consente uno sconto immediato del 25% del prezzo dell'asta e quindi questo è l'incentivo che consente ad alcuni di reputare appetibili alcune offerte. Bene, si parla appunto nella prima pagina, nella pagina di apertura di omicidio stradale, la deputata Morani che è la relatrice, la camera di questo progetto, legge necessaria dice per chi a causa di alcol, droghe o velocità provoca morti, se ne parla da tantissimo tempo di questo omicidio stradale di una legge adeguata è una battaglia di civiltà tra i camionisti, però c'è apprensione per l'ergastro della patente. Oggi c'è un incontro inconfartigianato proprio dove si parla di questo aspetto. Andiamo nelle pagine che riguardano Fano, un'associazione fanese di grande risvolto sociale, l'Avis ha presentato ieri il proprio bilancio, donatori sangue, Fano Uberalles nella regione, la prima in regione per gruppo di soci, ben oltre i 2.000 e passa soci, 2.500 e rotti e anche le donazioni, 4.950 per un 2015 da record si era partiti da un gruppo di 20 persone che pensarono di iniziare questa avventura 65 anni fa e quindi importante anche il lavoro sulle giovani generazioni, il progetto Avis Scuola, la più giovane ha 18 anni, ha fatto il compleanno, pensate, distesa sul lettino delle donazioni, sicuramente un bel modo per festeggiare il proprio compleanno. E poi si parla anche qui di spalla nella pagina di Fano del barbiere di Siviglia che ha regalato il tutto esaurito, il sold out al teatro della fortuna, si replica naturalmente questa sera, e quindi gli amanti dell'opera lirica potranno dilettarsi e deliziarsi le orecchie con i suoni di Rossini. E poi naturalmente anche l'altro risvolto del teatro è quello in vernacolo che riscuote sempre il grandissimo successo e al Politiama torna il vernacolo di Cianfrosaglia con la compagnia dei Comediant. Si parla di un caso che naturalmente hai più noto, ora i frati minori si impegnano nell'edinizia, addio alla sala ricreativa, ecco gli appartamenti. Il caso è questo, sparirà lo spazio storicamente dedicato ai concerti e le altre attività. Bene, lasciamo la pagina di Fano, andiamo in quella che riguarda un po' l'interno, sempre Fano e Val Cesano. Domani a San Costanzo c'è la 203esima Sagra Polentara, tempo permettendo, bisogna dire che i polentari di San Costanzo ultimamente col tempo hanno avuto qualche problemino, anche anno scorso, quest'anno idem, idem, speriamo che domani, ma le previsioni del tempo che abbiamo visto poco fa dalla protezione civile non sono molto incoraggianti, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il loro impegno che profondano nella loro opera. Mondolfo, si parla di elezioni, il gruppo si dice disposto anche a cambiare nome, la lista Marotta lancia Barbieri, sindaco, ora il centro-sinistra comincia ad agitarsi, avvicinandosi sempre di più il periodo delle elezioni. Il potenziale candidato Barbieri dice che sono disponibili per dare vita a un progetto nuovo e coinvolgente. Cambiamo la testata, andiamo nel Corriere Adriatico, in quella di Fano si parla di politica, opposizione tenera, un'intervista di Massimo Foghetti al Aramis e Garbattini, il capogruppo consigliare di progetto Fano. Non siamo teneri, siamo responsabili, intesa con l'Udc, fusione Aset e Sanità. In questa intervista appunto parla di questo il capogruppo. Abbiamo chiesto però, dice lui, le dimissioni del sindaco Seri e dell'allora presidente del Consiglio, Minardi. Questo a testimoniare la loro tenacia nel Consiglio. Si parla di turismo, in fondo alla pagina, promozione regionale in grave ritardo. Con turismo incontra il consigliere regionale Rapa, senza l'approvazione del bilancio siamo fuori dalle fiere. Quindi il consigliere si auspica un'approvazione di stanziamenti quanto prima per rilanciare la promozione del nostro territorio. E poi Fano Valcesano, sempre per il Corriere Adriatico, punta sulle prove d'intesa fra le liste marottesi. Anche qui si parla di politica. Barbieri scrive al Comitato per l'Unificazione e dice cerchiamo un accordo in estremis. Il Movimento 5 Stelle oggi svelerà il suo candidato sindaco. Salvo sorprese invece per il centro-sinistra il candidato è Silvestrini. In testa di pagina due perle del nostro territorio sono il Monte Catra e il Nerone che vengono descritti oggi a Montemaggior al Metauro alle 17.30 dall'Associazione Liberamente attraverso una guida fatta dallo scrittore e ambientalista Andrea Pellegrini che parla appunto di queste due perle del territorio marchigiano. Andiamo a Senigallia che lotta strenuamente contro la desertificazione del centro a causa della mancanza dei parcheggi. Emblematico via Carducci, oasi felice, via Carducci siamo nella zona mare che grazie alla riapertura di alcuni locali si è rianimata e nella dirimpettaia corso due giugno invece è zona limitrofe un deserto dei tartari e quindi gli esercenti protestano perché dicono appunto è impossibile parcheggiare. Poi in fondo alla pagina sempre di turismo, sempre di attività legate al mare si parla, i bagnini sono preoccupati dal servizio di salvataggio sempre più oneroso e per anche la mancanza di un introito che è quello della pubblicità in spiaggia che è stata vietata. Ci tolgono la spiaggia però i costi aumentano. sono soddisfazioni invece per le strutture in spiaggia aperte tutto l'anno. Insomma quindi due piatti della stessa bilancia e vediamo un attimino come va questo aspetto però sicuramente sul fronte della promozione del turismo Senigallia dice la sua anche a livello nazionale. Pesaro per il Corriere Adriatico parla di Museo Morbidelli, innovazione e didattica, un grande progetto di riqualificazione supportato anche dalla legge speciale che firmerà l'onorevole Fabri e quindi sarà sicuramente una bella visita quella che si potrà fare al Museo Morbidelli un polo della moto a 360 gradi per appassionati e formazione dei tecnici Enel, possibile anche l'Enel il main sponsor di questo museo. Export 2015 si parla di attività commerciali positivo, un più 11,4% nei confronti nonostante del meno 26% subito dall'embargo russi e quindi orgoglio del Presidente Drudi intanto cresce il rapporto con la Cina. Mercati emergenti, sempre quelli della Cina e anche del Medio Oriente che fanno sì che si colmi un gap dovuto alla Russia che era un asset importante per l'economia provinciale ma che per via dell'embargo ha creato sicuramente problemi. Fano per il Corriere Adriatico parla della possibile creazione di questa pista ciclabile lunga 25 km che unita a quella che mette in comunicazione Fano con Pesaro creerebbe veramente una bella striscia green sulla nostra costa, sicuri in bicicletta. È stato presentato ieri la ciclabile Fano-Senigallia il progetto che vede unite le tre amministrazioni di Fano-Senigallia e anche di Mondolfo che sarebbe il terzo punto toccato. Qui vedete i tre primi cittadini che presentano il progetto fatta anche una task force di tecnici delle tre amministrazioni proprio per mettere in piedi il progetto esecutivo. In testa di pagina però per l'inserzo di Fano si parla di cibo a scuola, parla il dirigente scolastico Fausto Antonioni che in risposta alle lamentele dei bambini e di alcuni genitori che non gradivano certi cibi nelle mense, dice che è non soltanto una questione di proposta gastronomica perché i nostri menu sono in grado di soddisfare tutte le esigenze, è una questione anche di background che si ha in famiglia perché magari certi cibi vengono esclusi dalla tavola della famiglia, dal desco familiare e quindi magari i bambini non sono così avezzi a mangiare certe cose per cui magari questo potrebbe essere un risvolto della questione. Andiamo nell'ultima testata che vi propongo, il messaggero come sempre di Pesaro si parla di referendum in grande evidenza, il sì dei comuni riuniti ieri consigli di Pesaro, Monbaroccio e Urbino oggi toccherà a tavoleto, convocazioni d'urgenza perché ci si avvia a grandi passi al voto del 17 di aprile e poi in grande evidenza qui Rossini perché partirà da parte della RAI una fiction che riguarderà appunto il compositore pesarese. Il meteo dice tempo incerto, nuvole e pioggia e anche qui poi in fondo pagina si parla del museo Morbidelli e la senatrice Fabri in vista alla collezione che riguarda appunto questa azienda storica del territorio pesarese. Si farà la fiction RAI sulla vita di Rossini, il set anche in città lo dice il sindaco Matteo Ricci, sarà un progetto che riguarderà il 2018, riprese ci saranno anche a Pesaro e quindi in città, adesso con la RAI si tratterà di capire qual è la possibilità per fare una miniserie oppure un film comunque ci sarà grande attenzione su questo compositore pesarese. Il referendum dicevo è presente nelle pagine del messaggero, se ne parla, ne parlano soltanto loro, in via e al via le contestazioni perché ieri si sono appunto riuniti d'urgenza i consigli ma dalle opposizioni fioccano le critiche sulle procedure ma la corsa al 17 aprile non si ferma, vedete qui di fianco la foto del sindaco di Monbaroccio Vichi e poi ospedale di Cagli l'assemblea, il PD sotto accusa e quindi si monta questa protesta e anche il sindaco di Piobbico Mocchi protesta per il progetto di Marche Nord a Fosso Seiore, quindi si unisce al coro di proteste di quanti appunto non vogliono il polo ospedaliero unico a Fosso Seiore. A Fano, nella pagina del messaggero, l'ultima che vi propongo appunto si parla anche qui della ciclabile, il tratto attivato tra noi e Pesero si è dimostrato un successo quindi quella già attiva anche per le attività stagionali lungo la costa e quindi benvenga questa ciclabile Fano, Senigallia unita appunto da una pista ciclabile, patto tra i comuni per realizzare l'opera Bollino Verde lo aspettavamo ormai da anni, si parla appunto delle caldaie e gli artigiani si dicono contenti per le decisioni assunte dal comune, adesso i controlli sulle caldaie saranno estesi all'interno del territorio provinciale, caso raro più che unico in Italia. Vediamo in fondo pagina, ecco che si parla di politica, di elezioni, i 5 Stelle presentano il loro candidato, siamo naturalmente nella zona di Marotta Mondolfo e poi la casa della mafia alle mamme sole, l'immobile sequestrato, vedete nella foto l'assessore di Fano, Mascarin, l'immobile sequestrato va al sociale, presentate due giornate di impegno civile. Bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevo, presente nell'inserto del messaggero che riguardava Fano, grazie per essere stati in nostra compagnia, Occhi ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30, questa sera l'appuntamento con il nostro TG Flash del sabato alle 20.30 e poi durante il corso della giornata pagina web e Facebook per rimanere aggiornati. Grazie, buon sabato e buona domenica a tutti voi.